È un contributo di conoscenza e di stile, conoscenza delle battute di Papa Francesco che hanno un contenuto esistenziale formidabile e anche uno stile, un linguaggio che è tutto suo. E qui in questo libro inquieti e sognatori sono i giovani e effettivamente si tratta di una raccolta di alcune battute di un linguaggio così così diretto che colpisce il cuore dei giovani. Siamo alla vigilia dell'inizio del sinodo sui giovani e è un contributo importante. L'impegno maggiore della Chiesa è quello di riscattare in questo momento storico la sua presenza in mezzo ai giovani. I giovani sono stati sempre oggetto e anche soggetti importanti nella pastorale della Chiesa, l'attenzione. Ma in questo momento con la velocità che c'è in tutto forse è necessario mettersi a correre con loro.